Siamo sfortunati nell'occasione dei gol, perché siamo anche sfortunati, diciamo anche quello della fortuna purtroppo non ci aiuta, però c'è da dire che oggi, siccome è il primo tempo, abbiamo fatto anche discretamente, abbiamo cercato di giocare la parola, al secondo tempo siamo stati troppo rinunciatari, abbiamo sbagliato noi in campo perché ci siamo schiacciati troppo, non riuscivamo più a ripartire, non riuscivamo più a tenere il palo, non riuscivamo più a fare dei fraseggi e cercare di costruire la qualitàzione, poter mettere in difficoltà loro. Ci siamo riusciti dopo il gol, dopo il gol abbiamo avuto questi 7-8 minuti, una reazione, un peccato perché mi ha perso un'altra volta, siccome non meritavamo di perdere perché anche il Bassano si è giocato un po' di più, ma non ha creato chissà che, però dobbiamo migliorare, dobbiamo cercare di essere un po' più propositivi perché indipendentemente che giochiamo contro una squadra davanti e non in classifica, però qualcosina in più potevamo fare.